Il passaggio è un'esperienza di una torre, il passaggio è stata a mezzare il resto di una girata in porta da parte della terza come la pietra, e ha scontrollato, poi la porta ha girato il corrigo al finito, e ha messo in attore di la forza, anche centino il raccettatore che ha messo in porta sulla rischia della direzione di un'attività, io credo che sia impeccato, rivediamo, c'è un'esperienza di fare 40 e 30, non è una farmacia della pavola.